Buongiorno a tutti, sono anche io qui a ringraziarvi per avermi invitato perché come sentite dall'accento vengo da Bologna e quindi diciamo che sono qui a due passi. Oggi vi presenterò come ha anticipato Marco il progetto Backbox Linux e farò una dimostrazione pratica, una dimostrazione pratica che non sarà un formaggio, uno smartphone, una notabile che quasi tutti voi avrete sicuramente in tasca. Come sono due indicazioni, il nome e cognome è Andrea Draghetti, qui potete trovare tutte le indicazioni per eventualmente contattarvi se avete dei tubi o qualsiasi chiarimento. L'agenda del giorno, la ripeto, è la presentazione di una distribuzione Linux Backbox e un caso reale su un tubo. Backbox Linux è una distribuzione open source dedicata al penetration testing. Backbox ha una caratteristica molto importante che integra i principali strumenti, il software, i tool dedicati proprio al mondo della sicurezza informatica per effettuare analisi e test di sicurezza. Vi faccio vedere una piccola anteprima della schermata principale di Backbox, ma dopo lo vedremo direttamente in azione, quindi potrete vedere come si utilizza questa distribuzione Linux. Backbox ha una storia, nasce nel 2010 da Raffaele Forti, quindi è una distribuzione Linux italiana, nasce in Italia e ad oggi vede già 10 rilasci, quindi sono state rilasciate 10 versioni. Si parte da settembre 2010 fino ad arrivare a settembre di quest'anno, quindi lo scorso mese è stata rilasciata la versione e tutti i programmi sono suddivisi in diverse categorie. Ce ne sono più di 10 di categorie e le categorie sono state create appositamente per cercare i programmi in una maniera più veloce e più rapida e andare direttamente all'obiettivo velocemente. A livello statistico siamo molto contenti perché come potete vedere dalla slide Backbox è una delle 50 distribuzioni Linux al mondo più scaricate. In questo momento aggiornato il 20 di settembre è la 48esima posizione, quindi è veramente una distribuzione a livello internazionale molto importante. Backbox ha ovviamente un sito ufficiale che è backbox.org, ha una wiki dove potete trovare informazioni sull'installazione, su come usare i vari tool e molte altre guide e un forum ufficiale dove tutti possono chiedere informazioni dall'installazione e fino all'utilizzo più avanzato di un programma. Abbiamo due principali mirror dove è possibile scaricare le ISO, uno dei quali ci tengo a sottolinearlo è il GAR, quindi la rete universitaria italiana che con grande soddisfazione abbiamo avuto questa risorsa perché potete capire che quando vengono rilasciate le nuove versioni abbiamo dei picchi di 1000-2000 download al giorno e con le nostre piccole risorse diciamo non è facile mantenere dei ritmi così elevati di download. La ripositoria ufficiale dove potete vedere tutto il quadrice sorgente che è libero quindi accessibile a tutti, migliorabile da tutti, la trovate nell'ultimo in sito internet indicato. Ora passiamo a un caso reale, il caso reale è quello che vedete ritratto in questo mondo. Ormai tutti noi siamo sempre più connessi a internet. Usiamo sempre il nostro smartphone per andare a Facebook, usare servizi di messa artistica istantanea come Whatsapp e tante altre cose a mail, navigare su internet, cercare il ristorante, l'albergo e lo spettiamo costantemente. Ci sono delle persone che non le farebbero più a meno dello smartphone oppure anche del tablet che è il nuovo oggetto nato da circa tre anni che ha avuto anche un successo enorme. giusto due dati a livello vivente. In Europa gli smartphone nel 2011, come vediamo in questa notizia da web news, hanno superato i telefoni tradizionali. C'è stato quindi nel 2011 che esistono più smartphone più smartphone che telefoni con i tasti, il classico telefono all'artica, definiamolo così. ma ancora più nel dettaglio, direttamente da Wikipedia, il mondo degli smartphone rappresenta nel mondo il 40%, quindi il 40% degli utenti che hanno un telefonino hanno un smartphone. Nel 2011 ci sono state vendute oltre 21 milioni di unità di smartphone contro i 20 milioni di unità dei telefonini normali. Di smartphone, quasi tutti noi abbiamo, come dicevo prima, la caratteristica principale di poter accedere a internet, poter navigare in internet e tutti noi spesso e volentieri abbiamo un pacchetto dell'operatore che ci comprende del traffico internet. Ma, per diversi motivi, come la velocità, come l'impossibilità in quel momento di navigare con il nostro operatore, cerchiamo delle wifi libere, delle wifi che ci possono dedicare più traffico, oppure ci evitano di consumare il traffico internet che abbiamo compreso nel nostro pacchetto. Finalmente, in Italia, a luglio di quest'anno, è stato liberalizzato il wifi, dove? All'interno dei locali pubblici. A differenza di una volta, abbiamo messo tre anni di leggi e di normative per arrivare a questo obiettivo, che ogni gestore di un locale pubblico che offriva la rete wifi all'interno del proprio locale doveva registrare gli utenti che si collegarono, doveva chiedere un documento, doveva chiedere il MAC address, quindi l'indirizzo identificativo del dispositivo. Da luglio di quest'anno, tutte queste normative burocratiche sono state annullate, il gestore di un bar, di un ristorante, di qualsiasi locale pubblico, insomma, può offrire gratuitamente la rete wifi ai propri clienti. Ma, come tutti noi sappiamo, questo mondo del wifi libero in Italia, almeno in Europa, è stata una delle ultime ad arrivare. Tante volte si sente dire, ah ma vado in America, c'è il wifi libero dappertutto, ah vado a New York e ogni due passi trovo il wifi. La stessa cosa si ripete anche a Londra, per esempio, ed è proprio per questo che ho voluto riproporvi una statistica fatta proprio a Londra, per quanto riguarda l'utilizzo delle rete wifi aperte. Da qui troviamo dei dati molto interessanti. Il 46% degli utenti che hanno uno smartphone utilizzano una rete wifi. Il 31% di questi utenti si collegano almeno una volta alla settimana a un servizio di rete wifi pubblica, quindi a una rete wifi offerta da un ristorante, da un bar, ma anche dal comune, per esempio, quindi da un ufficio pubblico. La media è che si collegano 15 volte a settimana a una rete wifi aperta e di conseguenza poco sicura. Il 52% dei pendolari, quindi se vado subito al tema successivo, teme che i propri dati possono essere intercettati, ma nonostante ciò continua ad utilizzare delle rete wifi pubbliche, perché magari ne ha bisogno, perché non gli interessa di quello che viene scambiato su internet, non pensa alle conseguenze. Ma la cosa ancora più importante è che la metà degli intervistati vive come una frustrazione l'impossibilità di collegarsi a una rete wifi. Vuol dire che la metà degli intervistati, se non c'è una rete wifi libera, accessibile, si sente a disagio, è frustrato. E infine, l'ultimo dato importante, il 20% dei dispositivi mobili in circolazione non ha sistemi di sicurezza, non ha il codice PIN o non ha un codice di blocco del telefono o del tablet. E solo il 5% o adotta una politica di sicurezza del proprio telefonino. Questi, come dicevo, sono i dati inglesi, ma in Italia purtroppo non ci sono delle statistiche valide ad oggi, proprio perché la rete wifi è nata da pochissimo tempo, la liberalizzazione della rete wifi. Pertanto, a settembre, quindi lo scorso mese, mi sono divertito personalmente a fare un test. Sono stato per lavoro a Roma, alla stazione Termini di Roma, sono arrivato con circa un'ora di anticipo, ma non volutamente, per puro caso. E di conseguenza ho preso la mia pievettina wifi, dovevo rispondere a delle mail di lavoro, l'ho accesa e ho iniziato a navigare all'interno di un bar dopo aver fatto colazione. Dopo 5 minuti, arriva un ragazzo da me e mi chiede, scusi, come fa lei a navigare su internet? Io, semplicemente, gli dico, guardi, ho la mia chiavettina internet, navigo con quella. E lui risponde, peccato, speravo che ci fosse la rete wifi nella stazione di Termini. Al che ho detto, voglio fare una prova. Ho preso la mia chiavettina wifi, gli ho chiamato l'identificativo, ovvero il nome con cui si presenta agli utenti. In questo caso l'ho chiamato Free wifi Termini, che è un nome che può tirare in inganno agli utenti, perché pensano che sia una rete wifi propria della stazione, quindi una rete wifi pubblica. Cosa è successo in circa un'ora? Io ho avuto 7 utenti collegati contemporaneamente, sui 10 che poteva sopportare il dispositivo, per un totale in un'ora di 16 persone. 16 persone che si sono collegate quindi a una rete wifi che non conoscevano la provenienza, con una rete wifi che pensavano fossero pubblica, perché tratte l'inganno dal nome, ma realmente la rete wifi era mia. Beh, connessione internet in quel momento la stavo pagando io, non un ente pubblico o la stazione di Termini. Per darvi una dimostrazione, questo è la paese del controllo del mio dispositivo wifi, e potete vedere in grande sulla destra gli utenti connessi, quindi l'ultimo dato in fondo, erano 7, e la rete wifi si chiamava proprio free wifi Termini, per un'ora e due minuti di connessione a internet. Quindi un'ora almeno 7 utenti collegati contemporaneamente gli ho raccolti. Se invece di usare per un'ora stavo un giorno intero alla stazione Termini a fare questo test, a fare questo a prova, bene, il risultato si fa con un calcolo semplicissimo. In questo caso vi ho scritto un'equazione, ma bastava fare 16 per 24 per ottenere che in 24 ore ottenevo almeno 384 utenti, ma attenzione, questo dispositivo, lo notate anche voi, è piccolissimo, ha un raggio di copertura di 7 metri, quindi copre malapena questa stanza. Pensate a un dispositivo più professionale, con un'antenna dedicata tipo questa? Questo è un dispositivo già più professionale, ha un'antenna comunque piccola, qui si può collegare un'antenna nettamente migliore, si sostituisce facilmente, si collega un'antenna più potente e di conseguenza il mio raggio d'azione è molto molto maggiore. Posso arrivare tranquillamente ai 20 metri, ai 15-20 metri di raggio e quindi un diametro anche di 40 metri. Poi, ovvio, posso mettermi più di uno, in punti distinti della stazione di termini, perché comunque non è una stazione piccola, assolutamente, è una delle più importanti di Roma, di Italia. E quindi vi chiedo io, se le mie intenzioni non fossero state pacifiche, se io vi controllavo il vostro traffico e internet, cosa poteva succedere? Qui vi faccio vedere proprio un esempio di un access point, il medesimo, con un'antenna più potente, quindi con qualcosa di sicuramente migliore e più performante. Creando un access point finto, un fake access point, e come potete vedere in questa immagine è facile, facile la dimostrazione, c'è l'utente finale con il suo smartphone che si collega al mio access point, l'attacca, ovvero io con il mio computer, posso controllare il traffico che voi fate e di conseguenza cosa ottengo? La cronologia della vostra navigazione, vedo tutti i siti che visitate, tutti. Facebook, Twitter, Google, se fate una ricerca, se mi fate una ricerca io vedrò cosa cercate in quel momento. Ma posso leggere anche le vostre mail che vi scambiate, oppure le password. Se voi andate sulla vostra casella e mail, vi collegate, io potrò vedere la vostra email e la vostra password. Una cosa importante sulle ricerche, perché ho specificato la parola ricerca. Come voi sapete, Google offre tantissimi servizi gratuitamente, a una sola condizione, che vi può vedere i vostri dati, quindi può monitorare le vostre ricerche, può monitorare le parole chiavi, quindi le parole che utilizzate maggiormente nelle mail, che usate su Gmail e tanti altri servizi. Quindi potete, Google per esempio, vi controlla quando navigate da un sito all'altro. Perché? Perché c'è la pubblicità di Google e quella pubblicità lì controlla il vostro traffico internet. Perché lo fa Google? Proprio per proporvi la pubblicità più mirata a voi. Di conseguenza, facciamo un esempio sulle stazioni di Roma Termini. La stazione di Roma Termini vi offre la connessione wifi, che si fa la gratuita, ma a fatto di questa connessione wifi, la privacy prevede che loro possano controllare le vostre ricerche su internet. Quindi, se la stazione di Roma Termini, il dirigente, il direttore, vede che tutti gli utenti di Roma Termini fanno una determinata ricerca su Google, è un marketing. Di conseguenza, lui sarà porpenso ad aprire all'interno della stazione di Roma Termini quel determinato negozio che offre quello che voi avete cercato. Esempio? Cercate spesso e volentieri una catena di alimentari, una fast food per esempio, bene, lui ha capito che all'interno della stazione di Roma Termini bisogna aprire quel determinato negozio. E questo è il marketing. Sfruttano i vostri dati per capire come aumentare il commercio all'interno della stazione di Roma Termini. Bene, allora io vi dico che in questo momento ci sono 9 utenti collegati, tra di voi, a una letta Wi-Fi che non conoscete. Ok? In questo dispositivo ne supporta massimo 10 ne sono 9. Se non ci credete potete venire a vedere. Nel monitor ho scritto che 9 utenti sono collegati a una letta Wi-Fi che si chiama Free Linux Day. No, bella. State tranquilli perché non vi tengo sotto controllo nulla. State collegati, sfruttatela, ma vi ho fatto capire quanto è importante il tema. Sfruttatela, ma vi ho fatto capire quanto è importante il tema. Sfruttatela, ma vi ho fatto capire quanto è importante il tema. Adesso è il tuo momento di darvi una dimostrazione pratica. Quindi, creando un'altra rete Wi-Fi, quindi state tranquilli, potete continuare a utilizzare quella di prima, vi farò vedere come è possibile intercettare il traffico di rete vostro. Quindi, come dicevo prima, password, cronologia e quant'altro. Solo a scopo dimostrativo. Dimmi. Solo a scopo dimostrativo. Solo a scopo dimostrativo. Quindi adesso creerò un'altra ulteriore rete Wi-Fi che si chiama Fake Access Point. Se vi volete collegare, fatevelo, ma a rischio vostro. Ok? Ci siamo capiti. Allora, se non ci credete, come dicevo, ci proviamo assieme. Che cosa ci serve? La distribuzione Linux che vi ho presentato prima, quindi Backbox. Un collegamento internet, che in questo caso è gentilmente offerta dall'istituto. Un adattatore Wi-Fi, l'antenna che vi facevo vedere prima. E un server di HCP che andremo ad installare direttamente all'interno della distribuzione Linux. Il server di HCP, non so se tutti voi sapete cos'è, ma non è nient'altro, in parole povere, quel determinato server che vi permette di avere un identificativo all'interno di una rete internet, quindi una rete Wi-Fi di casa vostra, la rete Wi-Fi dell'istituto. Vi permette di avere un identificativo che poi vi permette di navigare su internet. Ogni dispositivo, quando si collega a internet, ha un indirizzo IP. E solitamente è proprio il server di HCP che assegna in modo automatico, o comunque con delle regole che vengono preimpostate, che assegna l'indirizzo IP. Allora, adesso, a parte qualche difficoltà, ma direi di non avere problemi. Ma ho scelto, qui. Allora, adesso, a parte qualche difficoltà, ma direi di non avere problemi. Allora, questa è la distribuzione Backbox. Come vi facevo vedere prima, nello screenshot precedente o durante la slide, abbiamo un menu, veramente facile, 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 dove possiamo vedere tutti i tool preinstallati, suddivisi nelle varie categorie che abbiamo. Quindi, facciamo l'esempio. WireShake, che è un programma che, dopo vedremo in azione, che ci permette di controllare il traffico di rete. Infatti, sì, la descrizione è proprio Network Traffic Analyzer. Quindi vuol dire che possiamo analizzare il traffico di rete. Ma ce ne sono veramente tantissimi. Posso fare dei controlli all'interno delle rete VoIP, posso fare dei controlli proprio nelle rete Wi-Fi o Bluetooth, e via via di seguito. Anche ci sono tool in ambito forense, ambito forense che serve soprattutto in ambito legale, per dimostrare che un utente ha fatto traffico o ha generato delle determinate pagine di internet. Ma è tutto un altro ambito rispetto al nostro di oggi. Allora, come vi dicevo prima, la prima cosa da fare è configurare il nostro server di HCP. In questo caso, cosa facciamo? Non so quanti di voi conoscono il mondo Linux, però vi aiuterò per quanto mi è possibile. Il primo comando permette di ottenere i comandi di root, ovvero di essere il maggior proprietario, definiamolo così, in quel momento sul computer. Subito dopo vado ad installare il mio server di HCP con un comando facile facile facile. Install di HCP server. Dopo vi devo assegnare i parametri, quindi gli indirizzi P acquisibili. In questo caso gli andrò a dire che il router, quindi quello che io dopo andrò a definire router, è l'indirizzo 192.168.2.1 e spero che non vado a interferire con la rete interna dell'istituto che non l'ho ancora controllato, onestamente. Gli vado a segnare la netmask, che è 205.205.255.0 e pertanto mi permette di avere un regi di P che va dal punto 2 al punto 254. E per ultimo dato importante, vado ad assegnare il mio server DNS. In questo caso sfrutterò il servizio di OpenDNS. Il server DNS è un server che permette di convertire il nome di un dominio, quindi www.google.it, in un indirizzo IP. Indirizzo IP fondamentale su tutto il mondo di internet, perché i siti internet realmente si accedono tramite un numero, non tramite un nome. Poi per quanto riguarda l'utilizzo finale, quindi parlando di user, è più comodo digitare il sito internet in testo e di conseguenza sono stati creati i server DNS appositamente per convertire più facilmente e rendere la navigazione più comoda. Allora, io in questo caso ho già installato il server DHCP all'interno della mia distribuzione, ma vado ad ottenere i permessi di root, adesso sono al contrario, quindi non sarà facile, ok, e vado a guardarmi la configurazione, quindi quello che vi dicevo prima. Allora, per comodità, visto che sono al contrario, faccio un semplice copy in colla, qui vedete che all'interno del server di DHCP ho riportato gli stessi dati che prima abbiamo visto nelle slide. Ora lo chiudiamo, la configurazione, e andiamo in passo successivo, ovvero la creazione dell'access point, finito. Come faccio a creare un access point finito? La prima procedura è mettere il monitor mode, quindi modalità di monitor, la mia interfaccia di rete. I comandi sono veramente facili, dovrò digitare IRMON ENERGY START FWLAN 0. FWLAN 0 è l'interfaccia di rete mia, ovvero il nome che il sistema operativo ha dato alla mia interfaccia di rete. Come visualizzo la mia interfaccia di rete? Perché è passato di qua, ormai non lo so. Ok. V IF CONFIG Ok. In questo caso mi accorgo che la mia interfaccia di rete non è collegata, ma la andiamo a collegare velocemente. Aspettiamo un attimino, ridigitiamo il comando, ed ecco che abbiamo la mia interfaccia di rete attiva, e infatti notate che c'è il LED che è acceso frontalmente e lampeggia. Allora, attiviamo l'interfaccia di rete in modalità monitor mode, col comando IRMON ENERGY START FWLAN 0. OK. Allora, in questo caso vediamo che la mia interfaccia di rete mi ha creato un ulteriore che si chiama MON0 che è quella connettiva alla funzionalità di monitor mode. passiamo di nuovo le slide che vi faccio vedere il passaggio successivo. Ora, creiamo il finto access point, vero e proprio. In questo caso, come vi dicevo prima, avrà il nome FAKE AP, quindi FAKE ACES POINT. Ritorno sulla mia distribuzione, sempre per comodità, così facciamo prima il copio il comando. OK. Benissimo. Adesso, se iniziate a scansionare con il vostro telefonino le reti WIFI disponibili, vi troverete una nuova che si chiama FAKE ACES POINT. Questi numeri che vedete scorrere, e infatti c'è qualcuno che sta proprio provando di collegarsi, sono i dati, sono i MAC address di tutti i vostri telefonini, perché il vostro telefonino, anche se l'avete in tasca e non lo state utilizzando, in automatico scansiona le reti WIFI libere. E quindi, in questo momento, mi dicono che tutti quei dispositivi lì hanno rilevato questa rete WIFI libera. quando vedete che c'è un connect to, vuol dire che qualcuno di voi ha cliccato sopra FAKE ACES POINT del proprio telefonino. In questo momento, non riuscite a navigare perché dobbiamo ancora fare diversi passi. il passo successivo è quello di iniziare a instradare il traffico. Cosa vuol dire? Che dovrò dire al mio dispositivo che lui è il router della nuova rete e gli dovrò assegnare la netmaster e il gateway. Allora, facile, facile, facile. ritorniamo nella nostra distribuzione, apriamo la nuova scheda di terminale, ci riprendiamo le fasi. Qui per me c'è di root, ho sbagliato la fasi, non succede nulla, ok. Adesso vado a prendermi ecco, una cosa importante che mi sono scusato di dirvi, anche la creazione delle fake access point ha creato una nuova interfaccia di rete che si chiama in questo caso AT0 quindi AT0 corrisponde non a più il dispositivo ma al finto access point. Io in questo momento vado ad inalzare il mio access point finto vi andrò a definire la netmaster e il comando i root quindi gli installamenti di tutto il traffic bene fatto questo ci manca il server DHCP server DHCP che è ovviamente da configurare gli devo dire qual è l'interfaccia di rete su cui deve operare anche qui i comandi sono veramente facili touch quindi semplicemente creo un nuovo file gli attribuisco i permessi 777 quindi i maggiori permessi attribuibili e avvio gli DHCP con questo file DHCP .pid il .pid non è neanche un file temporale dove il server DHCP conserva le tabelle di associazione quindi si ricorda che al makeover se gli ha dato il condiviso IP .5 .6 .8 e sfrutterà le configurazioni che in precedenza abbiamo impostato che troviamo nell'ultimo file con estensione .conf allora proseguiamo continuo a copiarmi i comandi per comunità .5 .5 .5 se non mettevo i commenti era meglio ok ultimo comando perfetto il nostro server DHCP è attivo e in questo momento vediamo che qualcuno di voi il dispositivo Android per esempio ha provato di collegarsi e il server DHCP gli ha assegnato l'indirizzo 192.168.2.4 via via di seguito se qualcun altro opererà ecco che ne abbiamo un altro che si è collegato col punto 5 finale iPhone 5 e via via di seguito adesso ultimo comando cosa devo fare? devo instradare il traffico di internet sull'interfaccia in questo caso dell'istituto quindi devo dire agli utenti che si collegano dal mio finto access point che l'origine di internet è l'istituto apriamo un'altra scheda del terminale e con IP tables che è un comando di instradamento del traffico per tutti i computer Linux gli vado ad assegnare l'interfaccia reale che dopo andrò a controllare qual è l'interfaccia finta e il gateway predefinito dell'istituto allora il gateway predefinito lo tengo col comando root.n in questo momento io non conosco quale sia il vostro gateway predefinito quindi vado sempre ad ottenermi i comandi di root ok perfetto andiamo a iniziare a copiare un po' di dati a proposito il gateway ok il vostro gateway è il 10.10.1.2 ve lo copio e così sono a posto mi controllo anche l'interfaccia di rete che sia la è sempre la IP0 che ha già fatto 24 omega di traffico quello che è perfetto ed è quella quindi nel mio comando vado solo a sostituire il gateway e posso copiarmi il comando per intero lo facciamo prima no 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti adesso vi faccio vedere come analizzare il vostro traffico di rete usiamo un programma wire shake come vi dicevo prima ok l'interfaccia è da 0 e abbiamo la verifica del traffico bene tutte quelle scritte che voi vedete non sono nient'altro che il traffico che state generando dai vostri telefonini ok allora io per farmi una dimostrazione onde evitare dimostrare vostre password userò il mio dispositivo i comandi principali di air shake si ottengono con dei filtri quindi nella parola filter nel campo filter io posso scrivere dei filtri i principali filtri sono 3 4 il primo filtro mi permette di cercare la parola xxx in questo caso all'interno di tutti i pacchetti che voi vi scambiate quindi se io metto il comando tcp contains password vedrò velocemente tutti i campi password che voi avete indicato http è questo vedrò il traffico get post che non è tanto che il traffico per inviare e ricevere dei dati o http vedo solo il traffico http allora grazie ok allora adesso farò la prova ad accedere al mio blog e quindi ottenere i permessi e quindi farvi vedere due credenziali che ovviamente mi invento sul momento aspettiamo questi colleghi ci vuole un attimino ancora in questo momento io mi sto collegando al mio sito internet con il nome utente admin e con la password linux day ovviamente sono nome utenti e password inventati ma se io vado ok mi ritroverò lo stesso nome utente io ho digitato sul mio tablet e la stessa password che vi ho appena detto direttamente su wireshare e quindi questo vi dimostra in 5 minuti io posso analizzare tutto il vostro traffico di rete e anche le vostre password posso trovare la vostra password di facebook un vostro amico può trovare una password di facebook e scrivere sul vostro profilo qualcosa che vi offende facile 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 nulla di nel migliore dei casi nel migliore dei casi ho un bank posso tracciare i dati della vostra carta di credito del vostro conto corrente se vi suoto il conto corrente credo che nessuno sia contento vado velocemente perché se no si fa tardi le contromisure le contromisure la prima è facilissima diffidate assolutamente da qualsiasi connessione a internet è suo nonostante ve l'abbia detto siete comunque in dieci quindi anzi sono aumentati però non succede nulla a volte soprattutto quando sei all'estero è fondamentale connettersi a una rete wifi perché magari il proprio cellulare non ha il connessione internet compresa l'estero magari in un albero dovete leggere una mail e avete necessità di navigare qual è la contromisura i server VPN velocemente un server VPN non è nient'altro che un tunnel cifrato quindi qualsiasi persona che vi intercetta in quel momento non può vedere quello che state facendo su internet qui avete una dimostrazione facile facile in una vignetta c'è lo smartphone o il tablet un tunnel che è cifrato infatti ci sono i due lucchetti che va a destinazione sul server VPN il server VPN è facile implementarlo in due sistemi o con DDWRT che è un firmware modificabile all'interno del vostro proprio router per i modelli compatibili o con PFSense PFSense non è nient'altro che una distribuzione firmware che è proprio basato su Linux e quindi con codice sorgente aperto una contromisura estrema proprio proprio in maniera ironica è una black hole una black hole è una sacca definiamo la sacca come la vedete nelle immagini dove inserite dentro il vostro telefonino il vostro telefono è completamente isolato quindi non è raggiungibile né dal segnale del telefonato né dal wifi né dal bluetooth bene io ho concluso la mia presentazione grazie Grazie. Grazie.